Ecco, questi sono i miei complici Ciao complici, siete pronti? Allora, voi sapete bene che regalo dovete mettere là dentro Mi raccomando Mi raccomando, mi affido a voi Guarda il bigliettino, guarda Guarda che ha scritto Grande Vabbè, poi lo spieghiamo anche agli altri Quello che è giusto la bicicletta Perfetto Visto che si fa a chilometri con la bicicletta Arriva da Ancona Vabbè, io sono pronta Voi siete pronti Donatello e Matteo? Comunque stanno arrivando Adesso mi faccio la chiamata Anzi, se qualcuno di voi viene là Mi riprende mentre io chiamo